Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Si tratta del primo caso del genere in Italia Da oggi fa parte della giunta guidata dal sindaco PD Matteo Ricci Che tra poco sarà in diretta su Fano TV a Primo Cittadino Il viaggio è andato bene, così in un messaggio Alessia Bartolini Una studentessa 25enne di Monte Urano, vicino a Fermo Atterrata oggi a pratica di mare con un Boeing proveniente da Wuhan Città focolaio del coronavirus Domenica ecologica, ieri stop alle auto in centro a Fano Diminuite solo le polemiche Mentre restano elevati i valori delle polveri sottili nell'aria Meeting di Atletica d'Ancona Battuto il record nazionale dei 60 metri nella categoria Under 16 Sul podio Alice Pagliarini Una ragazza fanese di 14 anni Figlia d'arte che gareggia per l'Atletica Avis Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca La polizia di Fano ha arrestato due persone Due campani che in giro di pochi giorni avevano rubato diversi computer Tablet all'interno delle auto parcheggiate nel Fano Center Erano dei veri razziatori seriali d'auto Due campani di 60 e 40 anni con una lunga lista di precedenti Sempre per reati predatori Professionisti del crimine specializzati nell'asportare dalle auto parcheggiate Nei centri commerciali Refurtiva di pregio per lo più tablet e notebook Ora però si trovano nel carcere di Villa Fastigi con l'accusa di ricettazione Individuati ed arrestati dagli agenti del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Dopo una mirata operazione di controllo del territorio Che ha visto nella giornata di venerdì impegnate una decina di agenti Tra uomini in divisa e in borghese oltre a quattro auto Gli agenti del commissariato erano sulle loro tracce E venerdì sono stati intercettati nel parcheggio del Fano Center Nella seconda parte della mattinata Mentre si aggiravano tra le auto parcheggiate Con fare furtivo I due navigati ed esperti malviventi Si sono però accorti subito di essere stati adocchiati E hanno tentato di dileguarsi a bordo della loro auto Una Fiat Tipo, nuovo modello E hanno imboccato la statale 16 Gli agenti che hanno capito che i due stavano per darsi alla fuga Li hanno inseguiti raggiunti e fermati nei pressi di Marotta E sono scattate quindi così le perquisizioni L'auto, passata al setaccio in un'autofficina, era la loro cassaforte In uno spazio tra il bagagliaio e il parafango Si erano ricavati una botola segreta occultata alla vista Che si apriva solo all'interno in un vano appositamente creato L'auto aveva anche un marchigegno al suo interno Che permetteva di aprire lo scompartimento segreto Un cavo elettico tirando il quale si apriva la botola Dove c'era la refurtiva delle due giornate precedenti Diciamo così, di lavoro Sono stati recuperati una ventina di oggetti La maggior parte computer o portatili Frutto di una trentina di colpi messi a segno tra mercoledì e giovedì Per un valore di oltre 10.000 euro Che poi sarebbero stati messi nel mercato nero Nelle loro zone di origine I due campani che alloggiavano in un albergo della zona Fanno parte di un sodalizio criminale Che operava in diverse province Sia marchigiane che anche abruzzesi Stamattina è avvenuta la convalida del loro arresto Da parte del Tribunale di Pesaro E per loro il giudice ha disposto La misura cautelare della custodia in carcere Dove ora si trovano in attesa del processo I carabinieri di Fano invece hanno arrestato Un residente di 36 anni Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti I carabinieri lo hanno fermato alla stazione di Fano Appena sceso dall'autobus 72 proveniente da Barchi Addosso i militari gli hanno trovato 20 grammi di hashish Mentre a casa altri 20 di cocaina E alcune dosi di marijuana Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida Nel Tribunale di Pesaro Il 36enne ha patteggiato la pena a otto mesi di reclusione E mille euro di multa E adesso parliamo invece del nuovo rimpasto di giunta Messo in atto dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci Il primo cittadino ha chiamato in squadra il capogruppo del Movimento 5 Stelle Frenquellucci a lei ha dato un assessorato Ed è il primo caso in Italia Domani ufficialmente si riunirà la prima giunta rinnovata Comunica il sindaco Matteo Ricci Che con l'ingresso di Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle Introduce nel rimpasto tre nuovi assessorati Gentilezza, innovazione e rigore Nella ridistribuzione di deleghe e bilancio a Pozzi Lotta all'odio a Ceccarelli Personale a Mila della Dora Mentre l'assessorato di Frenquellucci Comprenderà attività economiche Rete informatiche, città digitale Servizi demografici Nuova partecipazione e università Offrendo di fatto al capogruppo dei 5 Stelle pesarese La possibilità di entrare in giunta comunale con il PD Questa ultima mossa di Ricci A prescenari del tutto nuovi Si tratta del primo comune in Italia A sancire questo accordo Che potrebbe comportare delle conseguenze politiche Sulle strategie delle alleanze Per le regionali della prossima primavera Intanto nel Movimento scoppia il caso Il capo politico pentastellato Traccia una linea dura Chiedendo alla Frenquellucci di autosospendersi Entrare in una giunta diversa Dice Crimi E' incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento Il caso conclude il reggente del Movimento 5 Stelle In una lettera destinata alla Frenquellucci Verrà sottoposta ai provviviri D'altro canto Anche l'opposizione Mantiene una linea rigida Il gruppo consigliare della Lega Pesaro Attaccano duramente i grillini Dopo la recente nomina Definendoli traditori di mandato elettorale Per opportunismo e ambizione di potere Alcuni fiduciosi Altri meno Invece i pareri dei cittadini Per che l'Italia sia migliorata Devono andare d'accordo Tante le 5 Stelle Come il PD Ha fatto un'operazione buona Ha fatto bene Ha fatto Perché se no finiscono per sparire tutti E invece qui ancora rimangono Se stanno lì in giunta Secondo lei la Frenquellucci si dovrebbe dimettere Dal Movimento 5 Stelle di Pesaro? Quasi E passare nel PD Passare Non è favorevole? No Poco Io sono stato sempre del PD E tengo per il PD Rimango sempre per il PD La mia idea è quella Poi se dopo va meglio Va peggio Si vedrà Quindi diciamo La scelta di Ricci non è giusta Secondo lei? No La scelta di Ricci se l'ha fatta Vuol dire che Si tiene opportuno di tenere In giunta Che Se collaborano Perché se uno va da una strada Uno va per un'altra L'importante è che sia Di collaborazione È il mio parere Farebbe più piacere Nel PD Che nel 5 Stelle Se lei è proprio Alla testa Per quelle cose Poi il sindaco Non credo che prendano Le persone così a caso Perché vedo che lui Ci sta molto dietro A quello che è necessario Secondo lei si dovrebbe dimettere La Frenquellucci dal Movimento? Ah dal Movimento? Beh Sì Sì perché se È un'altra cosa Sì Perché O sei dalla parte Sono due staff E non ci si può stare Ecco Credo che Dai caratteri Di chi fa parte Del Movimento 5 Stelle Non penso possa essere Un tipo Che possa collaborare Con un altro partito Con idee Opposte Quindi la scelta di Ricci È un po' azzardata Secondo voi? A questo punto sì Il rimpasto Il rimpasto della giunta Di Ricci Prevede anche L'assegnazione Della delega Di disability manager Al consigliere comunale Rito Briglia Mentre delle Noci Sarà nominato Presidente di Marche Multiservizi Il viaggio è andato bene Lo fa sapere con un messaggio Alessia Bartolini Studentessa di 25 anni Originaria di Monte Urano Affermo Arrivata a pratica di mare Con il Boeing Dell'Aeronautica Militare Italiana Insieme al gruppo degli italiani Provenienti dalla città cinese di Wuhan Focolaio del nuovo coronavirus Secondo quanto riporta il sito Cronache Maceratesi Gli italiani sono stati sottoposti Ad ulteriori controlli medici All'interno dell'area predisposta Dall'Unità di Difesa Chimica Batteriologica, Radiologica Nucleare dell'Aeronautica Poi il trasferimento in Pullman Alla Cecchignola Per due settimane di quarantena Al termine delle quali Potrà riabbracciare la famiglia Che vive in Umbria E adesso invece parliamo Della seconda e ultima Domenica Ecologica In programma a Fano Le polemiche sono un po' diminuite Rispetto alla prima domenica Ma a restare alti Sono i valori delle polveri sottili Domenica scorsa è stata la seconda Domenica per Fano Senza auto in centro storico Pur con qualche modulazione diversa A riguardo della viabilità Sostanzialmente ieri è andato in scena Lo stesso copione della domenica precedente Varchi presidiati E circolazione ad anello Attorno al centro Anche lo scopo è rimasto invariato Ovvero quello di combattere Polveri sottili PM10 Da uno dei punti della città A maggior densità di traffico Come segnalato Dalla centralina di via Monte Grappa Ma anche il risultato È rimasto più o meno il medesimo Nonostante l'assenza di auto Anche questa domenica Si è sforato Oltre i limiti consentiti E i sensori della centralina Hanno fatto segnare 74 microgrammi per metro cubo Oltre 24 il limite Che è di 50 microgrammi Confermando quanto da più parti detto Ovvero che l'incidenza del traffico Su questo dato è minore Rispetto invece alle condizioni meteorologiche Leggi, vento o pioggia Che invece incidono per due terzi del dato E questo secondo flop Dell'iniziativa e come era prevedibile Ha fatto scattare da parte delle opposizioni La richiesta della testa Dell'assessore di competenza Ovvero Samuele Mascarin Anche se l'ordinanza porta la firma del sindaco Sindaco Seri che però oggi Visto lo smorzarsi di alcune polemiche Che invece si erano accese la settimana scorsa E in una più convinta risposta Dei fanesi a vivere la giornata Sostanzialmente come una festa Si dice tutto sommato soddisfatto Dell'atteggiamento dei suoi concittadini Con buona pace per i possessori di auto elettriche Pur nella consapevolezza Che questo problema necessita Di un approccio più articolato e strutturato Oggettivamente potrei dire Che è stata una domenica positiva Ben interpretata Poi c'è sempre chi non è contento Chi ovviamente queste cose non le concepisce Ma ovviamente una comunità ha più visioni Oggi mi sento di dire Alla luce dei fatti Che è stata una domenica positiva Colgo anche una polemica Di un titolare di una macchina elettrica Direi che la persona ha ragione Quando dice che una macchina elettrica Non inquina Ma la filosofia non era soltanto quella Era anche quella di lasciare la città Al di fuori delle macchine Anche sul versante delle infrazioni Sensibili miglioramenti Questa settimana sono state zero Contro le 13 della domenica passata Forse complice anche la possibilità Data ai residenti Di poter comunque uscire dal cordone Creato attorno al centro Ma come tutte le medaglie C'è anche un rovescio Che è quello dei commercianti Che rimangono in bilico Tra chi contesta fortemente l'iniziativa E chi invece si limita Ad abbassare la saracinesca Cosa invece diversa Per i ristoratori Che devono vedersela Con la clientela Che deve raggiungere il locale O come anche chi Proprio nell'apertura domenicale Ha una sostanziale occasione di guadagno Come il forno Fantini Che ha abituato da oltre dieci anni Al pane fresco di giornata Anche la domenica I suoi clienti Sia al dettaglio Che anche i ristoratori E che queste chiusure Hanno causato spreco di prodotto finito E mancati guadagni Quanto pane hai buttato l'altro domenica? Ah io ho chiamato un'azienda agricola Che conosco così Che ha delle bestie Mi ha fatto due camminate di roba Buttata Anche perché col fresco Non è che si può riutilizzare E quindi niente La prima domenica Ho fatto in questa maniera Ci ho provato Ci ho rimesso anche gli occhi Questa qui invece Non ho aperto Ma ho fatto festa Ma a mio discapito Perché comunque sia Un guadagno mancato E anche una bella presentazione Rispetto ai clienti Che sono abituati E prendere un prodotto fresco Che non hanno potuto avere Adesso parliamo un attimo Di meteorologia Parliamo di meteo Perché da domani È in arrivo Un cambio repentino Soprattutto per quanto riguarda Le temperature Oggi pensate A Torino Erano 27 gradi Ma per quanto riguarda Invece le marche Da domani arriveranno Venti Dai quadranti occidentali Con tendenza maestrale Sui bacini occidentali E a tramontana Sul medio alto Adriatico Con raffiche Fino a 100 km Orari Mercoledì Venti di tramontana E vento di maestrale Che interesseranno Anche il medio E basso Adriatico Ci saranno possibili Mareggiate Sulle coste Settentrionali E su quelle Del medio Basso Adriatico I venti si attenueranno Nella giornata Di giovedì È previsto anche Un abbassamento Delle temperature Con nevicate Anche a bassa quota Padre Giustino Casciano È il nuovo Priore provinciale Degli agostiniani D'Italia L'attuale priore Della basilica Di San Nicola Tolentino Nato in Molise 64 anni fa Subentra Padre Luciano De Micheli L'elezione Si è svolta Ieri a Roma Presso la Curia Provinciale Ed ora Come tutti i lunedì Diamo uno sguardo Alle notizie Sportive Seconda battuta D'arresto Consecutiva Per l'Alma Che perde 2-1 In trasferta Contro il Reggio Audace E complica Ulteriormente Una classifica Già deficitaria Tra la nebbia Del Mappei Stadium Parte meglio il Fano Che a secondo minuto Vede il bolide Di Carpani Finire di poco Sopra la traversa Al diciottesimo C'è lavoro Per Viscovo Che sventa bene La punizione di Radrezza L'estremo difensore Fanese Nulla può Però 5 minuti più tardi Quando Zamparo Svette indisturbato In mezzo all'area E porta avanti i suoi L'Alma accusa il colpo E rischia di capitolare Altre due volte Nel giro di pochi minuti Prima di rifarsi viva Dalle parti di Venturi Con Baldini e Parlati Che tra il 35esimo E il 42esimo Sfiorano il pareggio Chi è preciso Come un cecchino È invece Ancora una volta Zamparo Che al minuto 3 Della ripresa Si procura e realizza Il calcio di rigore Che porta il reggio Audace sul 2-0 Il doppio vantaggio Ogni enti Granata Che solo a fil di Sirena Trovano la via della rete Con Carpani Un gol che dimezza il passivo Ma non cambia le sorti Della gara E fa scivolare il Fano A due punti Della retrocessione diretta E a meno 6 Della salvezza Che a questo punto Si fa sempre più difficile Non se la passa Molto meglio La Vispesaro Che ne prende 4 A Padova E si ritrova A soli 3 punti Dalla zona play-out E con la capolista Vicenza Pronta a scendere Albenelli Domenica prossima Giocherà Tra le mura amiche Anche il Fano Che nell'anticipo Di sabato Riceve al Mancini Il Feral Pissalò Reduce da 3 vittorie Consecutive Continua il tabù Casalingo invece Per Reta Beta Nel campionato Di Serie B Di calcio 5 La formazione Di Mister Mariotti Infatti Non va oltre il pareggio Contro il fanalino Di coda Sant'Agata Fuzzal Che mai prima di sabato Aveva conquistato Punti in trasferta Al Palatrave Finisce 2 a 2 Con i padroni di casa Che per due volte Riagguantano gli ospiti Prima con Giuliani E poi con Sabatinelli Senza riuscire poi A tradurre in gol Le tante azioni Pericolose create Fa i greggiamenti Il proprio dovere Invece La Giban Virtus Che spugna In poco più di un'ora Il campo del Mosca Bruno Bolzano Squadra ultima della classe Nel campionato Di A3 Di Volley 21-25 20-25 E ancora 21-25 I parziali Con cui i ragazzi di Radici Si portano a casa Tre punti Che fanno salire I bianco-rossi Al settimo posto Ad appena un punto Dall'attuale quota salvezza E a due Dalla zona playoff In attesa Del big match Previsto per domenica prossima Quando al Palace Allende Arriverà Il Prata Pordenone Squadra Che precede Salgado e Soci Di due lunghezze Attacco Potente Out Di Calone Che spreca Un'occasione Nel campionato Di Serie D Femminile Scontro al vertice Lucrezia Tra due squadre Del territorio E cioè Apa Vadriatica E Fulgor Fano Con le ragazze Di casa Che riescono a battere Per 3-0 Le fanesi E ad accorciare Così in classifica Proprio dalla capolista Fulgor Fulgor Che ora Vede il suo Vantaggio Dalla formazione Di coach Gabbianelli Ridotto A soli 3 punti Piccola parentesi Boccistica Ora per darvi conto Dello splendido Weekend Di Lorenzo Lucarelli Giovane Tesserato Con la bocciofila Lucrezia E vincitore Sabato Della quarta Tappa Del circuito Elite Juniores Abruzzo Marche Umbria Disputatosi A Casterra Imondo Il già campione Italiano Under 18 Ha poi vinto All'argento Il giorno successivo A Matelica Dove in programma C'era il secondo Trofeo Giovani Promesse Manifestazione Che ha visto Piazzarsi Al terzo posto Il fanese Riccardo Campanelli Della bocciofila San Cristoforo A Riccione Invece Dominio Delle giocatrici Pesaresi Al quarto trofeo Medusa Gioielli Gara nazionale Femminile Under 23 In finale Ha sconfitto Evelina Pierleoni Tesserata Per la bocciofila Col bordolo Di Vallefoglia E continuiamo A parlare di sport Del meeting Di atletica Che si è tenuto Ad Ancona Dove è stato battuto Un record nazionale A batterlo Nella specialità Dei 60 metri Categoria Under 16 Alice Pagliarini Una ragazza Fanese Di 14 anni Figlia d'arte Che gareggia Per l'Atletica Avis Oggi L'abbiamo incontrata Buona la partenza Rapida L'uscita Liece Pagliarini E netta La Pagliarini 7,62 Hai fatto Una bella gara Insomma Come sono Queste ore Dopo Questo bel risultato Come le stai vivendo Per me Diciamo È Normale Perché Alla fine Sì Ho fatto un buon tempo Non è cambiato Cioè Niente Vivo la mia vita Normalmente Con questa cosa In più Che sono La prima in Italia La prima al mondo Quindi È una bella sensazione Tu ti alleni abbastanza Insomma Quindi insomma Te lo aspettavi Questo risultato Così Era nell'aria Come Allora Sinceramente Non mi aspettavo Di Scendere così Tanto Cioè Io mi Mi sono sempre Impegnata E quindi Un po' Mi aspettavo Di migliorare Ma non così Stamattina Qualcuno Ti ha detto qualcosa I tuoi amici Come ti hanno Accolto Per questo bel risultato I miei professori Mi hanno fatto I complimenti E anche i miei compagni Di classe Mi hanno detto Cioè Sei fortissima Mitica Sei grande Sei fantastica Complimenti Adesso hai Continuito i tuoi allenamenti Hai Insomma Davanti a te Un bel calendario Intenso Quali sono I prossimi Le prossime gare Che affronterai La prossima gara È una rappresentativa Marche Oppure ad ottobre Ci saranno i campionati italiani Quindi ho tutto questo tempo Per prepararmi E andare lì E andare al massimo Sì Però aver fatto Un così bel risultato Ti dà più sicurezza Ti fa sentire più sicura Di te Delle tue potenzialità Come Emotivamente Come Come ti sembra Eh Sì Cioè Che se io Continuo a Credere In me Nelle mie Qualità In quello che posso fare So che posso Migliorare Sempre di più Lo vuoi dedicare a qualcuno Questo bel risultato? A mia mamma E mio papà Perché È merito loro E davvero complimenti Adesso invece parliamo Di Del processo Al carnevale Perché Anche quest'anno Torna La fortunata Trasmissione Che ogni Domenica Sera Durante Le tre Domeniche Di sfilata Andrà in onda Qui sul canale 17 Di Fano TV Il processo Il carnevale È un programma Che parla Della manifestazione Con ospiti in studio Novità di questa edizione Il concorso A premi Sui migliori scatti Attraverso L'applicazione Instagram Chi pubblicherà La foto più bella Della domenica Utilizzando l'hashtag Carnevale TV Sarà sorteggiato E poi riceverà Anche un premio Restate con noi Tra poco Dopo la pubblicità E le previsioni Del tempo Qui in studio Con Simona Zonghetti Ci sarà in diretta Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Per parlare con lui Per fare domande Al sindaco Potete come sempre Intervenire O in diretta Chiamando L'861433 Oppure inviando Potete inviare Dei messaggi brevi Anche con Whatsapp 338 4968 250 È tutto Grazie per averci seguito Buona serata E a domani